Ditemi se non è la cosa più inquietante che abbiate mai visto Detto questo possiamo incominciare Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy Raga in questo momento ho un'infezione Ho un'infezione alle gengive Probabilmente mi hanno sentito e sono venuti a prendermi Non potete capire quanto io sto soffrendo in questo momento raga Però ho detto devo registrare comunque Quindi dovete lasciare subito un like per supportare la mia infezione Madonna raga, mi è arrivata una fitta che non potete capire Porca tro... Ma tralasciando questo oggi siamo su una prova a non ridere Con Harry Potter Ma cosa? No vabbè raga non ci credo Ok Ma prima di cominciare direi di andare a salutare Emma Ravenclaw, Tommaso Brugola, Gine Esposito e Daniele Migliore Ciao ragazzi E oggi ha vinto Emma Ravenclaw, grandissima Raga mi raccomando se volete essere salutati Vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video Bene raga direi di andare a guardare la YouTube poop Di Harry Potter e la filosofia della pietra Il creatore di questo video è Ketchup Ketchup Vi lascio in descrizione il link del suo canale Bene raga Perfetto Perfetto Sono abbastanza sicuro che nella scena originale non succeda questo Però è questo il bello delle YouTube poop Va bene Abbiamo appena cominciato e mi sono fermato già due volte E' un buon segno Hagrid Ah che dice Tu sei un mago Henry Tu sei un Hagrid Tu sei un Diagonale Andrà alla mia scuola di magia e stregoneria del mondo eh 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 o eh Eh Sarà sotto il miglior preside che Hogwarts ha mai visto Rubius Hagrid Ma cosa? Gli ha fottuto il posto di lavoro a Silente E' diventato lui il nuovo preside Non intendo pagare mai Eh Insultare Rubius Hagrid davanti a me Ma perché? Lo sto già amando alla foglia raga La scena del treno Sono appena arrivati a Hogwarts raga Primo anno Primo anno Primo anno Primo anno Primo anno Primo anno Sei incriccato Hagrid Adoro le YouTube poop Draco Malfoy Ecco Il mio nome ti fa ridere eh Capelli rossi Una vecchia toga di seconda mano Devi essere un Weasley Quando si incriccano è bellissimo Boston Qui dice signori Mi segui più qui? Credo di sì Eh vabbè Ah il bolide raga Lo deve colpire Vai Mi ha staccato la testa Ma non ci sto credendo Oh l'Animus 2000 Ma cosa ricordella? È un manico di scopa Una ricordella Non è un semplice manico di scopa È una 2000 No Non ci credo Tutte le ragazze del 2000 Accogliete l'ironia eh Mi raccomando Oh la partita di Quidditch Non ci credo È arrivata al centro della terra Buonasera Raga è bellissimo Siamo ancora alla partita di Quidditch eh Ok Ah viene colpito Boston Fuori gioco E tutti esultano Ci siamo tolti dalle palle Boston Poverino Oh la scena più famosa dell'universo Leviosa No fermo 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 Così caverai l'occhio a qualcuno No fermo Te l'ha detto Pausa pubblicitaria Va bene Ma che sta succedendo? Ma perché c'è Gali? Agri Ora statemi a sentire Sono bagianate Mi basta un po' di musica E si addormenta come un vino Non dovevo dirlo Primo anno È vero Primo anno Ha vinto tutto Cioè la parte di Zepp è devastante Oh la coppa delle case raga Bellissima sta scena Condoro vince Esatto La coppa delle case Fighissimo Che ci fa Alessandro Borghese? A Hogwarts Esatto La coppa delle case Ha rovinato tutto Ma cosa? Ha vinto sempre verde Questa senza occhio Il suo voto è sempre quello definitivo Non c'è verso Ok Il reparto prebito della biblioteca Ma che non ce la sto facendo? Cosa vuoi dire? Lo sai perfettamente Oh Dio Piton Ma perché? Neville Pachock Neville scusami Petrificus totalus Povero Ecco Ciao E' andato Neville Ma cosa? Ma basta Il povero lo sta ammazzando Niente su Neville non fa effetto Scusami 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 tanto Ti prego Mi sa che stavolta Non si rialza Neville Oh la scena finale contro Voldemort Raga Bellissimo C'è lui che in realtà La petra filosofale In tasca E lo vede nello specchio Il bacino ci stava Eccolo Voldemort Signor E Maurizio Costanzo Io ne ho parole raga Giuro Scappare ti conviene Ma perché? Il problema imbarazzante Può essere Se c'hai Una giustificata Anzi Ma cosa sta dicendo? Bucciardo Quanto me ne possono Gli avvenire Maurizio Costanzo Fa scassare raga Eccolo lì Il potere Ti scioglie tutto E che mi è preso Un attacco allergi Oddio Questo è per te L'album di foto E beh Guarda com'è contento Henry Grazie Figurati Ancora Pensate se il film Fosse stato realmente così Epico Comunque raga Direi di concludere qua Se il video vi fosse piaciuto Vi invito a lasciare Un bellissimo like Vi ricordo che in descrizione Troverete tutti i link Dei miei social Instagram Facebook Quindi se vi va Scrivetevi su Instagram E lasciate un bel mi piace Alla pagina di Facebook Iscrivetevi al canale Per supportarmi E ragazzi vi do l'appuntamento Ad un prossimo episodio Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi